Anticipazioni tempesta d'amore, venerdì 28 agosto 2020. Nadia si rende conto che il cuore di Tim apparterà per sempre a Franzi. Bella si lascia scappare in presenza della Holler di aver trovato Michael dormire nel suo studio, probabilmente perché non ha chiuso occhio tutta la notte. La donna così si rende conto che il marito non è mai veramente uscito dalla sua dipendenza da psicofarmaci. La cantante così ferita decide di affrontarlo. Alphonse e Hildegard si interrogano sulla loro scoperta che però inaspettatamente li delude. I due credevano di aver trovato una fortuna e invece la scatola rinvenuta è vuota. Pertanto la gettano via ma commettono un errore gravissimo perché al suo interno è custodito qualcosa di preziosissimo.